Non mi stancherò mai di dirvi che questi appartamenti sono molto interessanti. Ed eccoci nuovamente in una delle più belle case di Viale Milano in Sondrio. Ci troviamo al terzo piano con esposizione est, sud ed ovest, quindi molto luminoso. Anche la vista è molto ampia. Non mi stancherò mai di dirvi che gli appartamenti di questo tipo hanno una metratura molto interessante e locali molto grandi. Di conseguenza dà la possibilità di ridisegnare anche completamente la disposizione interna, creando come in questo caso un doppio servizio, senza dover limitare gli altri locali. Sono ben più di 130 metri quadrati, con quattro camere da letto, il soggiorno, la cucina e il servizio. Il riscaldamento è centralizzato con il contacalorie. Completano questa proprietà l'ampio solaio molto alto soppalcabile, la cantina e il grande box. Inoltre, posti macchina nel cortile condominiale e aree verdi. E se vuoi maggiori informazioni, clicca qui sotto oppure visita il nostro sito.